La funzione conta se, count if, se le impostazioni del foglio sono in inglese, restituisce il conteggio degli elementi presenti in un intervallo in base ad un criterio. È molto utilizzata sia in contabilità, ad esempio per calcolare il numero totale di fatture in un particolare giorno, oppure in campo digital per contare all'interno di tutte le transazioni di un e-commerce quante volte un prodotto viene acquistato. Vediamo subito un esempio pratico. Utilizzo questo foglio che abbiamo già avuto modo di vedere nei video relativi alla funzione cerca vert e alla funzione query. Ho una tabella con il numero di abitanti suddivisi per paese e per il continente al quale appartengono. Poniamo di voler conoscere quanti sono i paesi in questa tabella del continente Europa e quanti sono quelli del continente Asia. Basterà applicare la funzione conta se, specificando l'intervallo dove recuperare l'informazione desiderata e il criterio sul quale basare il conteggio degli elementi. Posso specificarlo in modo esplicito scrivendo Asia, tra virgolette, oppure indicando la cella con il suo riferimento. Ecco pronto il risultato. Trascino la formula per avere anche il totale dei paesi europei. Il riferimento alla cella con il criterio cambia in automatico di conseguenza. Direi molto semplice, no? Ma se volessi sapere per questi continenti il numero dei paesi con più di un milione di abitanti, dovrei utilizzare due criteri nella funzione. Uno che mi indica quale continente contare e l'altro il numero di abitanti sotto al quale non deve essere considerato nel conteggio. Per fare questo ci viene incontro una formula specifica. Conta più se, che si basa sullo stesso principio appena visto, ma che permette di inserire più coppie di intervalli e criteri. Proviamola subito. Uguale, conta più se, l'intervallo, il riferimento al mio primo criterio, nel caso specifico Asia, il secondo intervallo di riferimento, quello riferito al numero di abitanti ed il criterio maggiore di un milione. Ed ecco qua, 46 paesi in totale anziché 50 per l'Asia e 36 paesi anziché 49 per l'Europa. Volendo potrai aggiungere anche altre coppie intervallo criterio. Ma facciamo la riprova per vedere se effettivamente questi valori tornano. Con l'occasione rivediamo l'utilizzo della funzione query. Per approfondimenti ti rimando al video dedicato che ho realizzato. Uguale query La tabella a cui riferirsi Select all where c Uguale Asia Virgola 1 Ho isolato tutte le righe della tabella dove il valore della colonna C corrisponde ad Asia. Il conteggio degli elementi, come mostrato dal foglio, è 50, coerente con quanto trovato con la funzione ContaSe. Modifico ora la query in modo da ottenere solo i paesi dell'Asia con più di un milione di abitanti. And Di Maggiore di un milione Ricontrollo ora il conteggio E 46 Stesso valore trovato con ContaPiUse Come vedi, puoi ottenere lo stesso risultato con strade diverse. Sta a te scegliere quale formula preferisci utilizzare in base alla tua esperienza e a come vuoi gestire i tuoi progetti. Spero che questo video ti sia piaciuto. Fammelo sapere nei commenti e non peritarti a scrivere se hai curiosità, dubbi o suggerimenti sul JavaScript che vorresti approfondire. Ti invito inoltre a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!